Salve a tutti, in questo video vediamo come numerare le pagine di un documento PDF su Adobe Acrobat Pro DC. Questo è un documento PDF, ho fatto prova documento 1 pagina 1, pagina 2 e pagina 3, però come potete vedere le pagine non sono numerate. Nessun problema, andiamo qua a destra su modifica PDF e poi andiamo qua su intestazione e piedi pagina. Quindi clicchiamo, facciamo aggiungi e qua a sinistra, al centro o a destra possiamo inserire il numero di pagina. Quindi clicchiamo qua su inserisci num pagina e come potete vedere appare il numero 1. Qua prima delle parentesi possiamo anche inserire page, puntato oppure pagina. L'importante è non intaccare questo preset. Quindi lasciamo le due parentesi di apertura e chiusura con all'interno il numero 1, che non è un numero fisso ma è un numero variabile. Quindi facciamo poi ok e come possiamo vedere andiamo in basso, pagina 1, pagina 2, pagina 3, è stato applicato a tutte le pagine del nostro documento PDF. Quindi facciamo file salva con nome, andiamo a salvare il nostro documento finale in PDF e poi andiamo ad aprirlo. Come potete vedere pagina 1, pagina 2, pagina 3 è stato salvato correttamente nel nostro documento. Quindi in questo caso sono solo tre pagine ma voi potete utilizzare questo sistema anche per numerosissime pagine. Quindi intestazione e piedi pagina su Adobe Acrobat Pro DC. Un saluto a tutti.